Dunque, adesso abbiamo la canzone, giusto? Sì, adesso c'è quella canzone dopo la poesia che ho letto. Ok, vabbè, io ho pensato. Quella lì di Califano, di Califano, di questo qua. Di pensi l'anima, su te la no, è bellissima. Quella è quella canzone che mi fa mancare il fiato, non ce la fa. Ma che è questa? Ma non ti piace? No, no, è bellissima, ma proprio mi... Guarda, Futura, Futura di Dalla. È bellissimo questo momento Futura. È bellissimo, sì, va bene anche questo, quella la mettiamo prima. Chissà, chissà, domani, su che cosa metteremo le mani. Che succede? Magimedia? Scusate. Sono vecchia, mamma mia, queste canzoni. Pure questa? Ti fa piangere pure questa? Mi fa piangere, ma voi non fa piangere. Hai ragione, dà. Scusi. Ho capito, ragazzi, però... Però una bisogna mettere. Una no, perché il momento comunque è molto emozionante. No, scusa, ma si mi gna, non lo capisco. Dobbiamo mettere qualcosa di... Però poi io devo leggere le poesie, se mi viene da piangere, mi balla il mento. Eh, va bene, ragazzi, comunque dobbiamo mettere qualche cosa, cioè a un certo punto qualche cosa di emozionante ce lo dobbiamo mettere. Io ho canzoni stonate, canzoni stonate eravamo, cioè c'erano futura o canzoni stonate. Qual è la canzoni stonate? Eh, questa è bellissima, ragazzi, questa. Canto solamente insieme a pochi amici. La sera dopo cena quanto abbiamo venuto. Ma non pensare che mi hanno dimenticato. Proprio l'altra sera parlavamo di te. Va con questa, se lo fa. Maria Amelia, ma questa è... È troppo bella, ma questa. Eh, ho capito, pure questa. Allora, canzoni stonate la possiamo fare. Scusa, no, scusate. Futura non la possiamo fare. Scusa, no, scusate, quella di Califano. Eh, non capisco, cioè, ragazzi. Fanne una più allegra, dai, scusa, Massimiliano, fanne una più allegra. Facciamo una cosa a contrasto, a questo punto, se ne è proprio non riesce. No, scusate, veramente, mi sembra di essere deficiente. No, no, ma sicura, non è questo. Però, una persona, sì, bisogna me. Fai, 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 fai una, fai una cosa per contrasto. A contrasto, con la giovinezza, il tempo. Dai, cazzo. La banda di Mirà. Eh, la banda di Mirà. Quando la banda passò, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ragazzo era lì e allora di sì, di sì. Quando la banda passò, ta-da-da-ta-ta-ta-ta-ta. Quando la gazzera lì, ma allora di sì, di sì. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. No vabbè ragazzi, è uno scherzo, mi sembra il funerale dell'amica che è morta, ma come l'amica che è morta prima? Ma di chi? Ma non è possibile, c'è la banda del funerale. Ma la banda di quale funerale, Maria Amelia? Non c'è stato il funerale, ma è che è New Orleans, non c'è il funerale, non c'è la banda. Scusami Massimiliano, non c'è il funerale, non c'è il funerale, non c'è la banda. Sono fragile! Fatelo voi, sono sbettacolo! E lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo fa così.